ci avete qua? adesso Stefano ti aggiorno. Allora Gnari, Marta è entrata e abbiamo buttato giù lo spigolo qua iniziale. Ascolta, accorciati piano piano il bastone. Buona? Adesso gli togli delle due protezioni, sei già operativa. Sta attento alle lenti Marta se riesci e nell'orientarla, se metti una lente verso il basso, una verso l'alto, tanto lei è livellata però evitiamo di la giriamo noi l'immagine, non preoccuparti, tu basta che la infili. Questa è lei, gira. Illumina il fondo, fai un'illuminazione wide se riesci in uno spot. Ah, eccolo là. Il cane non si vede. Un attimo fa abbiamo visto bene illuminato, se illumini come è. Prova a non muovere l'immagine. Così sei tu, vai ancora. Vai ancora. Illumina più il fondo della buca se riesci. Ecco così, così. E quindi va giù così, non crepe. Si, si è bella pulita. No no, allora Marta adesso verrà uno al tuo posto, ti fa sicura e tu vai avanti verso lui. Vai Marta. Sì, recupera la viola. Piano, perché qua sfrega. Piano. 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 Blocca. Bianca. Per un briciolo di aree che io forse. Ok. Fermo Blocca. Devo passarti sul cane perché da più su di così non ci passiamo in... Ok. Eccolo qua. piano aspetta marco eccolo eccolo fammi vedere rasta fammi vedere rasta un attimo